Grazie a tutti Il messaggio di questa giornata? Guardi, è un evento da non dimenticare perché ai 19 anni è successo il fatto che nessuno poteva immaginare. Ci sono state centinaia e centinaia di morti e ci sono state migliaia di feriti. In un atto che è vile, che ha messo a dura prova tutti i nostri servizi di sicurezza, ma che hanno reagito ovviamente nel migliore dei modi. Bisogna ricordare questo in modo che la collettività abbia presente cosa vuol dire la fierezza di una nazione, in questo caso gli Stati Uniti d'America, che sono riusciti a reagire costantemente ed essere determinati a vincere il terrorismo. Grazie.